Ad allertare la polizia di Stato sono state le grida dall'altro capo del telefono. Due uomini si stavano picchiando all'interno dell'area di servizio Arno lungo il tratto aretino della 1. Uno di questi brandiva anche un coltello. È successo ieri sera sul posto due pattuglie, una di Pistoia e una di Arezzo che si sono trovate davanti due uomini, entrambi camionisti che si stavano affrontando a suon di calci pugni. Uno di loro, visibilmente ubriaco, stava anche agitando il coltello. I poliziotti hanno cercato di attirare su di loro la sua attenzione per distoglierlo dal contendente già sanguinante, ma l'uomo, totalmente fuori controllo, si è scagliato con la lama in pugno contro gli agenti che per fermarlo sono stati costretti ad usare il cosiddetto taser. Trasportato in ospedale è risultato che l'uomo aveva un tasso alcolemico superiore di quasi 5 volte al limite previsto. L'altro invece è stato medicato dato che aveva riportato a causa di una coltellata una ferita ad un braccio. Dopo le cure è stato dimesso. L'aggressore infine è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate è stato trasferito nel carcere fiorentino di Sollicciano.